ciao benvenuto sul mio canale di segno e dipingi se non ti sei iscritto ti invito a farlo mi raccomando cliccati sulla campanellina per ricevere l'avviso di quando pubblicherò le lezioni in questa video lezione vedevo realizzare un chiaroscuro molto efficace in un corpo umano mentre se vorrai la lezione completa la puoi trovare nel mio corso di disegno online completo che troverai sotto la descrizione troverai il link e potrai accedere anche a tre video lezioni gratuite mentre questa fa parte dei miei workshop intensivi che sono delle video lezioni più professionali anche in questo caso vai nella descrizione potrai trovare le informazioni necessarie quando vogliamo realizzare un corpo umano dobbiamo considerazione in riflesso e le parti scure senza lasciare i netti come vedete qui abbiamo i riflessi quindi illustri le zone in luce in questa video lezione vedremo come realizzare un chiaroscuro d'effetto un chiaroscuro impeccabile partiamo come sempre da una 2b andiamo a vedere subito e partiamo dalla testa benissimo una volta delineato il contorno tra luce e ombra iniziando da le zone scure poi mezzitoni poi chiari ma le zone scure chiaramente dobbiamo partire con un tratteggio chiare in questo caso partirò appunto con la 2b e poi andrò man mano avanti mezzotono e zone chiare in questa maniera lentamente molto molto lentamente e come un monaco zen respiriamo lentamente e proseguiamo in questa maniera con estrema delicatezza delicatamente come ad accarezzare una farfalla o un neonato e proseguire man mano con la 2b la 5b la 6b la 6b c'è una piccola differenza dobbiamo anche appunto differenziale dei chiari scuri con la gradazione 5b e 6b andiamo a stabilire il confine tra un'ombra più intensa e un'ombra più chiara e e Arrivare fino qui con la zona scura, l'ombra e la zona chiara sono contornati dalla linea netta, ma man mano andremo chiaramente a sfumarla, andando a premere molto di più per creare appunto quel famoso nero. Questi sono solo accenni, ma nel mio corso online di disegno completo troverai la lezione completa dove spiegherò all'inizio, alla fine, tutto il disegno, strumenti, tecnica, esercizi, darò davvero tutto il necessario per raggiungere questo risultato o perlomeno avvicinarsi, poi se chiaramente parti da zero sicuramente questo diventa molto complesso, magari ti può servire per osservare, sperimentare, ma ti posso assicurare che se parti da zero semplicemente non potrai mai arrivare a questo risultato. Non che ti voglio sconaggiare, ma a quel punto ti consiglierei di partire dalle basi con il mio corso di disegno completo che trovi online, troverai qui nella descrizione, troverai il link e potrai anche accedere a tre lezioni gratuite senza impegno per renderti conto del potenziale che ha questo corso di disegno. Se invece già disegni, allora ti consiglio di andare a visionare i miei workshop intensivi dove troverai anche questa video lezione completa, dove ti dirò i segreti per arrivare appunto a questo risultato. Ciao! 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 Ciao!